Stacco della macchina, ed è Aurora, ed è Aleandro Lorch che si avvantaggia attaccato da Aurora Key, poi Aaron del Ronco, al Rededor all'esterno, ancora Avio Stella e in coda Zwick del Circeo, sensazione, se non mi è sfuggito qualcosa, che magari ha sbagliato, però ha rinunciato alla partenza Zwick del G, c'è oggi. Aurora al comando con 400 metri in 30, Aleandro che sposta, poi lungo lo steccato agli ostelli all'argo Aaron del Ronco, seguito dal Rededor, in coda Zwick del Circeo, i 600 iniziali in 45-4, quali sono più o meno a metà della retta opposta alle tribune, viene via in terza ruota Zwick del Circeo, Aurora sempre in vantaggio, Aleandro al suo esterno, poi a centro pista Zwick del Circeo, 1 minuto e 6 decimi, i primi 800 metri, bocco della curva finale con Aleandro che attacca Aurora, poi allargo Aaron del Ronco, in terza c'è sempre Zwick del Circeo che ora si aggancia con Aaron del Ronco, c'è un contrasto, e intanto Aurora sempre in vantaggio, sotto l'attacco di Aleandro Loro, 15-3 primo chilometro, 1-29 i 1200 iniziali, la retta di arrivo, Aurora attaccata da Aleandro, Aurora alla corda, Aleandro che insiste all'esterno, poi avvio Stella, Aaron del Ronco che torna a centro pista, Aurora, Aleandro che attacca, Aurora che si difende, stringe i denti, Aleandro guadagna qualcosa, Aurora si difende ancora, Aleandro insiste a largo sul palo, Aleandro appariglia completamente Aurora, poi avvio Stella e Aaron del Ronco, rivediamola, sensazione che Aleandro sia riuscito a stampare Aurora, intanto 1,58 e 8, quindi la media è intorno a 1,14 e 3,14 e 4, vediamo un po', eccolo qua, il replay, Aurora all'interno, va in crisi proprio negli ultimissimi metri, Aurora, Aleandro guadagna, centimetro sul centimetro, eh sì, direi sul palo, Aleandro è riuscito a stampare Aurora che è il terzo posto per Abio Stella, dunque dovrebbe essere, poi ovviamente aspettiamo anche la decisione del giudice d'arrivo, ma comunque dovrebbe essere Aleandro Lorco, Rebecca Dami, Francesco Faccial Training, i colori sempre di Rebecca e il figlio di non solo Bar vince il premio Argové a media di 1,14 e 3 circa, decimo più decimo meno. Grazie a tutti! Grazie a tutti!